Vieni a rompere le valli, voglio accantarti, allora io devo avere... C'è anche questa gente? Eh, rompi. Vabbè, magari a te non interessa, però comunque ti potrebbe interessare. Vabbè, magari a te non interessa, ma non interessa, ma non interessa. Vabbè, magari a te non interessa, ma non interessa. Vabbè, magari a te non interessa. Grazie.